Non metto in discussione l'unità, la vorrei vera, effettiva e se c'è un partito del Sud in termini di movimento culturale, di chi osa esprimere delle idee o le legge anche finalmente in dei libri coraggiosi, ho letto nei giorni scorsi questo libro che si intitola Terroni, lo consiglio per la verità a chi ha un po' di tempo, io lo sottoscriverei tutto, sono arrivato ancora a una cinquantina di pagine, ce ne sono tante ancora da leggere per la verità, una vera unità vuol dire che da noi si eliminino le mafie e qua lo Stato onestamente sta facendo l'impossibile, io devo registrare che con questo governo e col Ministro Maroni si stanno assestando da Palermo a Napoli, certo è più difficile forse intaccare l'andrangheta perché è un corpo più chiuso, la camorra perché è molto capillarizzata nel territorio sociale della Campania, che non addirittura in Sicilia dove francamente sono conseguiti risultati importantissimi, poi c'è da dotare di infrastrutture questo territorio, non solo il ponte, un treno veloce, dignitosamente, non dico veloce ma a velocità accettabile che colleghi almeno le due Sicilie, Palermo e Catania, ma anche Napoli e Bari ad esempio, finalmente questa Salerno Reggio Calabria che è un cantiere aperto da un'eternità e qualche altra autostrada e qualche altra ferrovia e dei porti decenti chiaramente, ecco, questo in quanto infrastrutture. Poi per lo sviluppo, senza pensare a chissà che cosa, non credo molto alle grandi banche, le banche vanno costruite nel territorio, se ce la faremo la Regione può dare una mano, poi c'è ora la capacità degli imprenditori siciliani che riescono chiaramente a dar vita a una banca che sia un'impresa privata a tutti gli effetti, attenta però alle esigenze del territorio, come dire, la ricetta per risolvere i problemi si chiama fiscalità di vantaggio, noi con questa finanziaria di tasse ne abbiamo ridotte, le zone franco-urbane sono in tal senso importanti, il credito d'imposta per l'occupazione è in tal senso importante, ma ci vuole una fiscalità di vantaggio asseverata dall'Europa per la quale il nostro governo nazionale deve battersi, non soldi, ma che da noi non si paghino le tasse, nel sud, non in tutta Italia ovviamente, questo sarebbe un fattore attrattivo di sviluppo e di lavoro che è anche uno degli antidoti contro la criminalità, ma è soprattutto la ricetta per risolvere problemi fondamentali e secolari, dieci anni di fiscalità di vantaggio secondo me ci consentirebbero di risolvere questa cosa, ecco come vedo l'unità, vedo l'unità che forse può anche ricostruirsi con un federalismo che sia però intelligente, che non sia razzistico e che non sia egoistico, se limitiamo soltanto il federalismo al fatto che i campani piuttosto che i lombardi vivano delle loro tasse, ma vuol dire sancire la divisione del paese in due, almeno in due se non in più di due, c'è bisogno di un meccanismo perequativo, in una fase nella quale, comprese le infrastrutture da creare, la fiscalità eccetera, che sono potenti mezzi di sviluppo, si portino le regioni nelle stesse condizioni di partenza, ci vorranno 20 anni forse, non meno di questi, dopodiché giustamente ciascuno risparmi bene, impieghi bene le proprie risorse, le valorizzi al massimo, ogni amministratore che sbaglia venga preso a calci nel sedere e non gli si consenta di amministrare più la cosa pubblica, sono meccanismi virtuosi che si accompagnano allo spirito di responsabilità che è connaturato con il federalismo.